Ciao cari follower, benvenuti sul mio canale, sono di nuovo qui con grandi novità. Condividerò un meraviglioso video su Sila e Ali Libraim Cejan. Prima di passare al mio video, non dimenticare di iscriverti al mio canale, mettere mi piace e condividere il mio video. L'attore turco Ali Libraim Cejan ha attirato l'attenzione dei media e dei fan a causa delle recenti indiscrezioni. Soprattutto la notizia su Melisa Dongel ha fatto arrabbiare Cejan che ha rilasciato una dichiarazione sorprendente su questa situazione. Ali Libraim Cejan ha risposto a queste voci e ha detto quanto segue. Sono triste. Questo è tutto. Non posso tollerare voci e speculazioni. Elisa ed io siamo solo amici e questa notizia ha un effetto negativo sia su di me che su Sila. Si prega di rispettare la nostra privacy. Questa affermazione è diventata al centro dell'attenzione di tutti e il punto in cui riflette il desiderio di condividere con il pubblico fatti contraddittori sulla relazione tra Ali Libraim Cejan e Sila Turkoglu è che se le parole di Cejan secondo cui ha sconvolto Sila Turkoglu non sono correlate, si scopre che tali voci sono infondate. Sembra che l'equilibrio emotivo della coppia sia sconvolto. La nostra famosa coppia, la cui vita privata è spesso all'ordine del giorno nel mondo delle riviste, si imbatte spesso in speculazioni. Ali Libraim Cejan e Sila Turkoglu, che sono nell'agenda del mondo delle riviste, sono tornati all'ordine del giorno con questa dichiarazione. Si dimostra determinato a fare uno sforzo per rafforzare le basi della loro relazione e del loro legame reciproco. La relazione di Ali Libraim Cejan-Sila Turkoglu è una coppia seguita da vicino dai media e dai fan ed è caratterizzata dalla relazione. Dopo questa dichiarazione, si attende con impazienza il futuro della relazione della coppia e l'impatto di queste voci. Non dimenticate di seguirci per le notizie su Ali Libraim Bejan e Sila Turkoglu.